L'Unione Europea apre all'Italia sulla flessibilità chiesta dal Premier Renzi su migranti e sisma. Il commissario agli affari economici Pierre Moscovici ha fatto sapere che Bruxelles valuterà l'ipotesi di lasciare fuori dal patto di stabilità le spese dei paesi per la crisi dei rifugiati o un terremoto o un attacco terroristico. Da Moscovici arrivano parole positive per il governo. Ho fiducia che l'Italia come sempre se la caverà e risolverà i suoi problemi con il nostro aiuto. A Roma prosegue il commissario, c'è una minaccia populista. E' per questo che sosteniamo gli sforzi di Renzi affinché sia un partner forte all'interno dell'OE.